Alla presenza di autorità civili e militari si è inaugurato un bivacco in località Piglionico, alle pendici della Pania, intitolato al medico Roberto Nobili, volontario del soccorso alpino scomparso in una tragica notte del marzo 2000 durante un soccorso. Alla cerimonia era presente la moglie di Roberto Nobili, che si è resa protagonista di un commovente momento in ricordo del marito. Dopo i saluti del sindaco di Molazzana, Rino Simonetti e la benedizione di Fra Benedetto Mattie, è stato possibile visitare il bivacco, costruito secondo i più moderni metodi di risparmio energetico e di impatto ambientale, reso completamente funzionante dall'installazione dei pannelli fotovoltaici. La nostra montagna, sono le nostre puane che continuano a crescere, che continuano ad abbellirsi, diciamo così. Questo è un recupero importante sia da un punto di vista storico, come hai detto giustamente, perché sono un po' l'immagine di un mondo scomparso, il mondo dei primi cavatori che venivano quassù e che non potendo andare la sera a casa avevano fatto questi bivacchi dove poter passare la notte, dove poter passare le settimane andando a casa solo la domenica. È importante da un punto di vista paesaggistico perché avere tre bivacchi, tre baite come queste nel cuore delle Alpi Apuane è una cosa unica. Qui siamo nel cuore del parco e quindi ci è sembrato giusto non lasciare andare a malora queste tre baite che sono bellissime, stupende e di cui la gente potrà usufruire. A questo primo bivacco dato in gestione al soccorso alpino ne seguiranno altri due che sono tuttora in fase di lavorazione e saranno a disposizione degli escursionisti e dei molti appassionati che quotidianamente visitano il gruppo delle panie. Stiamo facendo col segretario comunale tirando giù un regolamento che sarà pronto a breve e io penso che facendo domanda e entrando in una lista chi fa domanda potrà usufruire dei due bivacchi che ancora ci sono. Da tutto di vista economico sarà gratuito, naturalmente dovranno riconoscerci quelle che sono le spese di gestione, la pulizia, il mantenimento dei locali eccetera. Quindi porteremo la gente qui in montagna e la porteremo a stare bene in un contesto paesaggistico incredibile.